Renzi ha utilizzato la Camera dei Deputati come un palcoscenico per le televisioni, per andare sui Tg ed è stato l'ultimo insulto al Parlamento perché la procedura con la quale si è arrivato all'approvazione della revisione costituzionale ha avuto queste caratteristiche, di un governo che si è violentemente portato sopra al Parlamento ha negato qualunque ascolto, ricordo che c'è stata anche l'espulsione di 10 deputati del PD dalla Commissione Affari Costituzionali a un certo punto è stata approvata in prima lettura la revisione costituzionale con le opposizioni che hanno abbandonato l'aula per protesta è stata votata la legge elettorale con il voto di fiducia ieri è stato l'ultimo insulto, un Presidente del Consiglio che non ascolta neanche un intervento e viene a concludere il dibattito viene a concludere la discussione generale e poi si permette di rimproverare le opposizioni perché sono uscite dalla... e siamo davvero all'espiace che non sia stato notato neanche sufficientemente dai commentatori anche quelli critici perché è un decadimento della qualità delle nostre istituzioni e pagheremo tutti